Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Fedez e Chiara Ferragni accordo per il divorzio Dopo aver trascorso l'estate separati, Fedez e Chiara Ferragni si sono incontrati con i rispettivi avvocati per discutere del loro divorzio. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, i due ex coniugi hanno trovato un accordo. Come Francesco Totti e Lari Blasi, anche Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio. Dopo un'estate di divertimento separato, si sono incontrati a Milano con i loro legali. Nonostante un clima teso, i due sono riusciti a trovare un compromesso. L'accordo prevede che Chiara si prenderà cura completamente dei figli, rifiutando qualsiasi tipo di aiuto finanziario offerto da Fedez, che è stato giudicato irrisorio. La Ferragni ha dimostrato di non aver bisogno di aiuti inadeguati e ha deciso di alzare il muro di fronte a un argomento così serio. Fedez, dal canto suo, dovrà sostenere tutte le spese scolastiche e mediche dei figli e potrà vederli a weekend alterni, ospitandoli nella sua casa di Milano. Nonostante l'atmosfera glaciale tra i due ex coniugi, entrambi hanno compreso che il benessere dei bambini è la priorità assoluta. Al momento, né i rapper né Chiara Ferragni hanno confermato ufficialmente la notizia dell'accordo di divorzio. Resta da vedere come evolverà la situazione tra i due e quali saranno i problemi.